Una delle novità che presentiamo come Celli quest'anno è la nostra fresa Pioneer 140 DD, cioè dual drive, che abbiamo sviluppato prevalentemente per la lavorazione dei carciofi. È una fresa speciale che ha una doppia trasmissione, una destra e una sinistra, ad ingranaggi e frontalmente ha un doppio rotore con un interspazio centrale proprio per favorire il passaggio nella fila dei carciofi in questo caso e la lavorazione laterale. Questi due rompitracci anteriori sono indispensabili proprio per cercare di fare da interspazio proprio per il terreno. È una fresa che si presta per trattori di potenza fino a circa 140 cavalli. Andiamo a vedere la parte posteriore. Posteriormente troviamo due ventole separate, la sinistra e la destra, con una regolazione a vite manuale ammortizzata con una geometria variabile che serve per livellare in modo molto preciso il terreno che viene lavorato e raffinato nella camera di lavoro all'interno della fresa. Ci sono poi dei laterali prolungati proprio perché questo passaggio deve essere molto preciso e non danizzare le piante. Inoltre si possono aggiungere delle piccole appendici laterali proprio in modo che il terreno non defluisca dalla parte posteriore rimanga all'interno della macchina proprio per essere lavorato ed uscire in modo livellato e preciso.